29 aprile, Santa Caterina da Siena, Vergine. La mistica. Chi oserebbe intraprendere la narrazione dei meriti di Caterina o anche solo di enumerare i titoli di gloria di cui si circonde il suo nome? Ella occupa uno dei primi posti tra le spose di Gesù. Vergine e fedele si unisce allo sposo divino fin dai suoi primi anni. La sua vita consacrata da un si nobile voto si svolge in seno alla famiglia affinché sia in grado di adempiere le missioni sublimi che la provvidenza le aveva destinato. Ma il Signore, che voleva non di meno glorificare in lei lo stato religioso, le ispira, per mezzo della professione nel terzo ordine, di unirsi ai frati predicatori. Ne veste l'abito e per tutta la vita ne segue le regole. Fin dagli inizi si può riconoscere dal portamento di quell'ancella del Signore qualche cosa di celestiale, come se un angelo si fosse obbligato a venire ad abitare la terra per condurvi corporalmente una vita umana. La sua corsa verso Dio sembra irresistibile, dando l'idea di quello slancio che deve trascinare verso il sommo bene le anime glorificate, agli occhi delle quali Egli già si mostra e si mostrerà per sempre. Il peso della carne minaccia in vano di trattenere il suo volo. L'intensità delle penitenze la macera, la rende dolce e leggera. In questo corpo trasformato sembra che la sola anima viva, per sostenerti, le basta solo l'alimento dell'Eucaristia e l'unione con Cristo diviene così completa che le sue sacratissime piaghe si imprimono sulle membra della Vergine facendola partecipare ai dolori della passione. Pur vivendo d'altezze così sublimi, Caterina non resta estranea a nessuna delle miserie dei suoi fratelli. Il suo zelo è di fuoco per le anime loro. La sua compassione per le loro infermità corporali è tenera come quella di una madre. Dio ha messo a sua disposizione la sorgente dei prodigi che è la dispensa a piene mani tra gli uomini. La morte e le malattie cedono al suo impero e i miracoli si moltiplicano intorno a lei. Fin dai primi anni ha cominciato a godere comunicazioni divine e l'estasi è divenuta al suo stato quasi abituale. I suoi occhi hanno visto spesso il nostro Redentore risorto che le prodigava carezze e attenzioni. I misteri più grandi sono discesi alla sua portata ed una scienza che non ha niente di terrestre illumina la sua intelligenza. Questa figliuola senza istruzione detterà scritti sublimi nei quali la penetrazione più profonda della dottrina celeste viene esposta con una precisione ed un'eloquenza sovrumana e con un accento che anche oggi penetra le anime. L'azione politica Ma il cielo non vuole che tante meraviglie restino sepolte in un angolo dell'Italia. I santi sono l'appoggio della Chiesa e se la loro opera è spesso misteriosa e nascosta qualche volta invece si rivela gli sguardi degli uomini. Allora si scorgono in piena luce quei mezzi con l'aiuto dei quali Dio governa il mondo alla fine del secolo XIV si trattava di restituire alla città eterna la presenza del vicario di Cristo assente dalla sua cattedra da più di 60 anni. Nel segreto della presenza di Dio un'anima santa poteva per mezzo dei suoi meriti e della sua preghiera determinare questo ritorno che desiderava tutta la Chiesa. E il Signore volle che tutto ciò si compisse in piena luce. In nome della Chiesa abbandonata in nome del suo divin sposo che è pure sposo della Chiesa Caterina attraversa le Alpi e si presenta a quel pontefice che non aveva mai visto Roma e di cui Roma ignorava le fattezze del volto. La profetessa l'intima rispettosamente il dovere che egli deve compiere e, per garanzia dalla missione che assolve gli rivela un segreto di cui lui solo poteva aver conoscenza. Gregorio XI è conquistato e la città eterna rivede finalmente il suo pastore padre. Ma alla morte del pontefice uno scisma presagio di grandi disgrazie porta una lacerazione nel grembo della Chiesa. Caterina lotta ancora contro la tempesta fino alla sua ultima ora ha compiuto il trentatresimo anno ed il Signore Gesù non vuole che sorpassi quell'età già consacrata nella sua persona. Adesso è venuta l'ora in cui la Vergine andrà a continuare in cielo la sua opera di intercessione per quella Chiesa che ha tanto amato e per le anime riscattate dal sangue di Cristo. Vita Santa Caterina nacque a Siena il 25 luglio 1347 all'età di sette anni fece voto di castità perpetua. Dopo una viva opposizione la madre le permise di ricevere l'abito delle suore di San Domenico ma restando nel mondo. La sua vita allora trascorse nella cura dei malati l'estinzione degli odi che dividevano le famiglie la conversione dei peccatori attraverso le sue preghiere e le sue esortazioni. Scrisse al legato del Papa in Italia per domandargli la riforma del clero il ritorno del papato da Avignone a Roma e l'organizzazione di una crociata contro gli infedeli. Nel 1376 inviatavi dai fiorentini partì per Avignone per patrocinare presso il Sommo Pontefice la causa di Firenze in rivolta che il Papa aveva dovuto colpire di interdetto. Ne profittò per supplicare di nuovo Gregorio XI di ritornare a Roma. All'inizio del grande scisma sostenne con ardore la causa di Urbano VI senza pertanto riuscire a farla trionfare. Favorita dalle più insegne e grazie spirituali dettò durante l'estasi il dialogo che contiene tutta la sua dottrina mistica e infine morì a Roma nel 1380. Il suo corpo riposa nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva. Il Papa Pio II la canonizzò nel 1461 e Pio IX nel 1865 la dichiarò compatrona di Roma. Preghiera per tutti Presa completamente dalle gioie della risurrezione la chiesa si rivolge a te Caterina a te che segui l'agnello ovunque egli vada in questo luogo di esilio dove egli non si fermerà più a lungo ella non gode che ad intervalli della sua presenza ti domanda dunque avresti veduto l'amato del mio cuore? Tu sei la sua sposa e lo è lei pure ma per te non esistono più né separazioni né quel velo che impedisce la vista mentre per lei il godimento è raro e rapido e la luce ancora offuscata dalle ombre. Ma quale vita è stata la tua Caterina ha unito la più profonda compassione verso i dolori di Gesù alle delizie più vibranti della sua vita glorificata? Tu puoi iniziarci ai misteri del Calvario alla magnificenza della risurrezione siamo nel tempo pasquale in questa novella vita veglia su noi affinché la vita divina non si spenga mai nelle anime nostre ma vi sia invece accresciuta da quell'amore di cui tutta la tua esistenza celestiale ci offre l'ammirabile modello per la Chiesa rendici i partecipi o vergine di quel tuo attaccamento filiale alla Santa Chiesa che ti fece intraprendere cose così grandi tu ti affliggevi delle sue afflizioni e ti rallegravi delle sue gioie quale figlia devota noi pure vogliamo amare la madre nostra confessare sempre quel vincolo che ci unisce lei difenderla contro i suoi nemici guadagnarle nuovi figli generosi e fedeli il Signore si servì del tuo debole braccio donna ispirata per rimettere sulla sua cattedra il pontefice di cui Roma rimpiangeva all'assenza fosti i più forti degli elementi umani che si agitano per prolungare una situazione disastrosa per la Chiesa le ceneri di le ceneri di Pietro in Vaticano quelle di Paolo sulla via Ostiense le altre di Lorenzo di Sebastiano di Cecilia di Agnese e di tante migliaia di martiri trassalirono nelle loro tombe quando il carro trionfale che riconduceva Gregorio XI entrò nella città per merito tuo Caterina avevano termine in quel giorno i settant'anni di quella desolante cattività e Roma tornava alla vita per l'Italia prega pure per l'Italia che ti ha tanto amata che fu così fiera delle tue glorie e di cui tu sei la padrona le impietà e l'eresia oggi vi circolano liberamente si bestemmia in nome del tuo sposo si propagano le dottrine più perverse ad un popolo smarrito gli si insegna a maledire tutto ciò che esso aveva venerato la Chiesa è spesso oltraggiata la fede è fievolita da un pezzo e minaccia di spegnersi ricordati della tua patria Caterina e ora di accorrere in suo aiuto di strapparla dalle mani dei suoi mortali nemici tutta la Chiesa spiera in te per la salvezza di questa illustre provincia del suo impero calma la tempesta e salva la fede in questo naufragio che minaccia di inghiottire tutto per la salvezza di un po' di di un po' di di un po' di Grazie a tutti